È tardissimo, lo so, perché siamo già al 10 settembre, ma tant'è, me l'avete chiesto e vi accontento. Andiamo a vedere oggi cosa ti accadrà nel mese di settembre, mese che inizia dal giorno 10. Abbiamo già visto l'oroscopo di tutti i segni zodiacali per il mese di settembre, te li lascio qui alla fine, in fondo al video ti apparirà, ti clicchi e te li vai a vedere, ma vediamo anche, scegliendo un mazzo di carte, cos'hanno da dirti, da aggiungere i miei tarocchi, va bene? Farò due stesse, quindi scegli fra primo mazzo di carte avventurina verde, secondo mazzo con l'ametista, ma anche per gli amanti il quarzo rosa. Andiamo a vedere cosa ti accadrà nel mese appunto di settembre. Andiamo, vediamo il mese di settembre, se hai scelto l'avventurina verde, ripeto, oggi ne abbiamo 10, quindi mese di settembre diciamo dal 10 al 30, va bene? Oracoli volume 1, se vuoi questo mazzo di carte ti lascio giù il link, te li puoi andare a vedere, li ho creati io. Ma vediamo, mese di settembre, ecco, non ho fatto neanche in tempo, 2024, la riparazione. Allora, qui come tu vedi ci sono tutti i gomitoli, il filo, le cose, no, per cuscire. Quindi qui si ricusce qualcosa, si ripara qualcosa. Ora andremo a vedere ovviamente tutte le altre carte di cosa ci sta parlando sta riparazione, però ecco, può essere la riparazione di un rapporto, quindi fare pace con qualcuno, il ritorno di qualcuno o comunque il riparlare con qualcuno o semplicemente ecco anche il fare pace come abbiamo visto o ancora riparare se si vuol parlare di un rapporto lavorativo, quindi un ritrovare lavoro se lo abbiamo perso, un risentire qualcuno, rivedere qualcuno se lo avevamo perso di vista. Insomma, ora andremo a chiedere in specifico, diciamo che questa carta è una carta bellissima, meravigliosa degli oracoli, va bene, che aggiusta tutto, aggiusta tutto, va bene. Vediamo di che cosa ci vogliono parlare. Quindi diciamo che avventurina verde, qui già si va verso il bene, si va verso il bene. Ora, proseguiamo, mettiamo via gli oracoli, andiamo a vedere le altre carte, cosa ci vogliono dire. Mese di settembre, dal 10 al 30, per l'avventurina verde, poi vabbè, ci sono le previsioni settimanali, settimana per settimana te le vai a vedere. Effettivamente qui abbiamo la riparazione, guarda come parlano le carte, e qui ci fanno vedere l'arcobaleno che esce ovviamente dopo la pioggia. Effettivamente ci stanno dicendo, guarda, la parte più difficile di una situazione è finita. Quindi le difficoltà sono finite. Belle, mamma mia. Allora, avventurina verde, qui si parte bene. Vedi, qualcuno sta cercando di mangiarsi la torta, mi viene da dire, nel senso che sta cercando di mettersi in mezzo fra te e un'altra persona, o fra te e una situazione. Quindi di prenderti qualcosa, diciamo, capito? Ok. Ah, tre addirittura, vediamo. Andiamo a vedere cosa vogliono dire. Però qui ci sono, vedi? Qui c'è lo scudo. You need to defend yourself. Quindi qui hai bisogno, dovrai difenderti da un attacco, ti dice lo scudo, va bene? Ti devi, ti dovrai difendere da qualcuno, da un attacco di un qualche tipo, da cosa? Ti dovrai difendere da qualcuno che cerca di prendere ciò che è tuo, va bene? O comunque di mettersi in mezzo, dice la carta, fra te e una persona. Qui ci sono i fiori, che è la felicità, la gioia, ti parla la carta. E la farfalla, exchange for the better. Quindi qui mi viene da dirti, ti è all'altra persona che non ce la farà. O comunque, siccome c'è una riparazione di un qualche tipo, se voglio collegare le due situazioni, ma non è detto, magari ci parlano di due situazioni staccate, ve lo dico sempre. Se vogliamo vedere la stessa situazione, con questa riparazione, qui mi stanno dicendo che qui c'è stato un tentativo, c'è un tentativo da parte di qualcuno di danneggiarti in un certo qual modo, però non ce la fa, tu ti saprà difendere, perché qui con la farfalla c'è un cambiamento in meglio, e ce lo dice sia l'arcobaleno che la farfalla, attenzione, c'è un cambiamento in meglio di situazione, ok? E la felicità con questi fiori. Quindi qui, se tanto mi dà tanto, ci se la fa a difendersi. Ma vediamo cos'altro hanno da dire le carte, vediamo lor signori i tarocchi. Chi mi segue lo sa che finché parlano loro, cioè per me la sentenza definitiva ce l'hanno i tarocchi, cioè provo da fare, fammi vedere. Coloro che hanno scelto l'avventurina verde, come vivranno, cosa accadrà per loro durante il mese di settembre? Mese che però stiamo vedendo dal 10 al 30, va bene? Quindi diciamo le tre settimane che rimangono di settembre. Poi c'è l'oroscopo ovviamente, ho già pubblicato l'oroscopo di tutti i segni zodiacali per il mese di settembre. Qui alla fine del video, appena arrivi in fondo al video, ti comparirà il link da appiggiare. Oppure giù nella descrizione di questo video, qui sotto, ti lascio il link. Allora, prima carta ruota della fortuna, quindi direi anche i tarocchi aprono, rosa, assoli, bastoni, aprono in modo eccellente, mi viene da dire. Vediamo tutto il resto. Il cavaliere di spade, ok, quindi qui c'è anche questo guerriero. Mese di settembre per l'avventurina verde, regina di spade che è uscita sotto, la regina, vedi il cavallo, la regina, perfetto. Ok, è chiarissime. E l'otto di coppe che è uscito a testa all'ingiù. Ma, guarda, qui sono di una chiarezza, fanno paura. e il mondo. Allora, allora, io non so cosa sia successo, ma qui se ne vedono di tutti coloro come fai a parlare tre giorni. Allora, diciamo che avventurina verde, questa carta, e se vuoi anche questa, già ti hanno raccontato tutto quello che c'è da raccontare. Cioè, il mese di settembre vede un arcobaleno. Ok? Quindi, qui c'è, è successo un qualche cosa, che sia in amore, che sia sul lavoro, che sia per motivi privati, d'altro tipo, di quello che ti pare. Per ognuno di noi sarà una situazione diversa, no? Visto che è una stesa per decine di migliaia di persone, che guardano questo video. Qui c'è una situazione difficile, difficile, che va a ripararsi. Ok? Vedi te che situazione tu hai. È ovvio. Ora, io qui posso vedere anche due personaggi. Allora, io qui vedo innanzitutto una donna, non so se tu, se te, o la persona con cui c'è questa situazione difficile, incavolata come una viscia. Va bene, c'è una donna di molto incavolata, non posso dire altre parole. Va bene? o comunque una donna che è bella tosta, con questo scudo, che ha tutta l'intenzione di difendere ciò che è suo, e se lo riprende. Quindi, se tu hai una situazione, perché qui ti vedo anche, come voglio spiegare, se tu dovessi tirar fuori i cosiddetti, no? Ecco, per riprenderti qualche cosa, un lavoro, una persona, una situazione che era sfuggita di mano, bisognerebbe vedere qui, ognuno di noi, che cosa c'è in ballo. Comunque, quindi, una situazione che con determinazione, con grinta, con decisione, ok, con decisione, forza di carattere, ci riprendiamo, sistemiamo, mettiamo a posto, non so come è meglio dire, ricordiamoci sempre sta riparazione, ok? Quindi questa è una cosa. Poi, qui c'è anche, il, ci può essere stata una situazione con una persona, quindi una situazione o una persona, con cui era successo un qualcosa, e qui questa situazione viene messa a posto. Quindi ci possiamo vedere anche, come dicevo all'inizio, va bene? Mi do un po' d'olio, se mi vedete traffiare è solo quello. una situazione, come dicevo all'inizio, che può vedere il fare la pace di due persone che avevano, che avevano litigato, ok? Qui posso vedere, posso vedere pure quello. Una situazione, ecco, di due persone che avevano litigato, che avevano avuto un prittro qua, quindi anche questo fanno vedere le, anche questo fanno vedere le carte, addirittura, ci potrebbero arrivare delle scuse, quindi qualcuno che chiede scusa, che chiede perdono, va bene? Può succedere, può succedere pure quello. Quindi un po', un po' questo, fanno vedere queste carte. Quindi carte molto, molto belle. Non solo, qui c'è anche una situazione che cambia per il meglio, per te. Qui fanno vedere un cambiamento positivo, anche se tu vuoi, no? Un colpo di fortuna, o comunque il caso, il caso, il destino, che ci mette un po' lo zampino, in questa situazione. E da lì tutto riparte. Bisogna vedere ora, se è la sua, la sua situazione, vedi, esattamente. Qui c'è, diciamoci, potrebbe essere anche, una situazione, che si era conclusa, quindi un uomo, una persona, con cui si era chiuso un rapporto, e con qualcuno, che potrebbe tornare a farsi vivo. Ora, a dirla tutta, qui non escludo, che si possa parlare, anche di un discorso lavorativo, eh? Qui non lo posso escludere affatto, anche un discorso lavorativo. Comunque, qui c'è un cambiamento in meglio, un cambiamento in positivo, in una situazione, che viene recuperata, sistemata, aggiustata. Vedi te, per la tua vita, di che cosa ti stanno parlando. Andiamo a vedere ancora, vediamo, mese di settembre, per l'avventolina verde, poi guardate anche l'altro mazzetto, io ve lo consiglio sempre, i bambini, poi, eh, fate il che vi pare, io i consigli ve li do, poi, come si dice, eh, non mi venite a dire, che non ve l'avevo detto. Avventolina verde, mese di settembre, mmm, mmm, vedi, anche, no, guarda l'arcobaleno, guarda l'arcobaleno, lo vedi, sia di qua che di qua, l'arcobaleno, quindi qui, ci dobbiamo lasciare andare, un pochino, alla corrente, o almeno dobbiamo, questo è quello che faremo, cioè, il divino, ok, quindi il destino, in altre parole, l'universo, il destino, chiamalo come ti pare, sicuramente ci metterà lo zampino, quindi qui, c'è un qualcosa che si smuoverà, durante il mese di settembre, un qualcosa che si smuoverà, di su, senza che noi, insomma, facciamo niente, qui ci parlano, tutte le carte ci hanno fatto vedere, questi, questi arcobaleni, questi miglioramenti di situazione, va bene, queste riparazioni di situazione, tutto andrà ad aggiustarsi, vediamo un po' anche gli oracoli dell'amore, che non parlano solo d'amore, non farò un video lunghissimo, visto siamo già, come ho detto, al 10 di settembre, e ho già fatto l'oroscopo, di tutti i segni zodiacali, per il mese, quindi, però, insomma, me l'avete chiesto in tantissimi, questo video, vi voglio accontentare, ma, non la voglio fa troppo lunga, va bene, ok, voglio tutto, bene, quindi qui c'è qualcuno, che è intenzionato a riprendersi, grandi cambiamenti, in vista, io direi, non c'è neanche bisogno, di tirarne ancora, non ci abbiano a confondere le idee, qui è ovvio, ci sono dei grandi cambiamenti, e mi vengo a dire belli, perché qui c'è la fortuna, c'è la ruota che gira, ok, la ruota che gira, e che riporta, una, o più di una, situazione, la riporta in auge, va bene, e la migliora, da come ci hanno parlato, da come ci stanno parlando queste carte, qui c'è un cambiamento in bene, in positivo, di certo non in peggio, quindi qui possiamo stare tranquilli sotto quel punto di vista, un pochino anche i segni zodiacali, con cui avremo più a che fare, durante questo periodo settembrino, con quali segni zodiacali avrà a che fare l'avventurina verde, due sono già a volare, oddio qui, lo sciopo a tutta, allora, con il segno del cancro, con il sole e la luna, guarda belle, cancro leone, pesci, ariete, guardati l'oroscopo, il toro, per il tuo segno zodiacale, per il tuo ascendente, come minimo, va bene, li trovi, alla fine di questo video, la bilancia, avventurina verde, con qua, ok, vediamo un po', con i gemelli, con il, questo niente, con il capricorno, ritiriamo ancora, vediamo se ce li dà, se no ci fermiamo, il leone che abbiamo già visto, questo niente, io direi di fermarmi qua, se non me ne danno altri, la vergine e il toro, ma la vergine l'avevamo vista? No, allora, cancro, leone, vergine, gemelli, capricorno, toro, bilancia, ariete, e pesci, ok, questi segni zodiacali che sono usciti, detto questo, andiamoci a vedere l'altro mazzetto, mi raccomando, e poi, in fondo a questo video, sotto in descrizione, o semplicemente sul canale, vatti a vedere l'oroscopo, per il tuo segno zodiacale, per il tuo ascendente, per l'intero mese di settembre, va bene? Andiamo, ok, andiamo a vedere anche per te, quarzo, rosa, e ametista, come sarà il mese di settembre, mese, che per noi inizia il 10, oggi è il 10 settembre, che sto registrando, quindi, ho fatto un po' tardi, andiamo a vedere con gli oracoli volume 1, ti lascio il link, per vedere questo mazzo di carte, giù, in descrizione, se lo vuoi, eccetera, e, ho già pubblicato l'oroscopo, di tutti i segni zodiacali, per il mese di settembre, quindi, insomma, vatti a vedere quello, ti lascio in fondo al video, ti comparirà il link, da cliccare, per andare a vedere l'oroscopo, però me l'avete chiesto in così tanti, anche questa stesa qui, che, insomma, intendo farvela, va bene? Allora, andiamo a vedere, per il mese di settembre, quindi dal 10 al 30, quarzo, rosa e ametista, cosa accadrà a queste persone? Per coloro che hanno scelto ametista e quarzo, rosa, cosa accadrà? Mese di settembre 2024, oi oi, ne volevo una, ne son volate due, eccola là, la difesa e la devozione, ah, beh, allora, la difesa la dice, di per sé, di suo, però, ecco, quello che mi fa fede in lei, è questa devozione, ora, guardate, con quanta devozione, con quanto amore, questa bambina, abbraccia il cavallo, ok, con devozione proprio, con un trasporto, con un affetto, con un amore, pazzesche, quindi qui c'è, e purezza, quindi qui c'è, amore, devozione, affetto, attaccamento, feeling, di un certo tipo, ora, andiamo a vedere dove ci vogliamo portare queste carte, attenzione, andiamo a vedere di che cosa ci vogliono parlare, mese di settembre, per i, accidenti, stium, ah, sembra un, qui c'è la ragnatela, ok, sei protetta, protetto, protetta, da forze negative, fuori dal tuo controllo, quindi qui c'è una ragnatela, vedi, c'è un sistema di protezione, che tu hai intorno a te, fermi, andiamo a vedere di cosa ci parlano, eh, attenzione, troppo, il tulipano, grande passione, ah, però, vedi, passione, devozione, ok, qui c'è un testone, qui c'è una persona testarda e aggressiva, e ti dico anche il segno dell'ariete, perché questo mi rappresenta, non sto dicendo che l'ariete è aggressiva, ti sto dicendo che mi fanno vedere l'animale, ok, l'animale è aggressivo, testone, testardo, quindi magari, vedi, avremo a che fare con un soggetto, magari semplicemente sul lavoro, e ragazzi, non andiamo a pensare, ecco, va bene, però, ecco, qui c'è una rete di protezione, protezione, grande passione, time to get out of a situation, vedi, e qui c'è il secchio che si ribarda, quindi qui magari, vedi, è ora di uscire da una situazione, magari, con questo personaggio un po' aggressivo, voglio dire anche soltanto un po' burbero, semplicemente, che l'amorbidio, comunque, qui c'è un personaggio aggressivo, magari semplicemente il capo sul lavoro, che ci tratta male, non andiamo a pensare a cose, fino poi possiamo arrivare anche a cose un pochino più importanti, ma io non voglio pensare a quelle, ok, però, ecco, qui c'è una rete di protezione, che ti aiuterà a uscire da questa situazione, vedi, sotto questo personaggio, un po' in quella maniera lì, quindi, guarda, guarda lì le heart and do, magari questa devozione, ci parla di una persona che ci aiuta, che ci piglia a cuore, che ci aiuta a proteggerci, a uscire da questa situazione, un po' in quella maniera, ma andiamo per gradi, vediamo i tarocchi, poi guarda filoroscopo, come stavo dicendo, per settembre, dei segni zodiacali, che ho messo, e vedi lì cosa ti dico, se se ne parla anche lì, al tuo segno zodiacale, al tuo ascendente, va bene? Alla luna, che è importantissima, fammi vedere, quarzo rosa, e ametista, ok, prima carta, qui c'è un re di bastoni, quindi già, ci mandano verso un personaggio maschile, qui fanno vedere questo testone, quindi, andiamo a vedere, e potrebbe essere effettivamente, vedi il sette di spade, no, troppe, allora a questo punto le chiudo, settembre per quarzo rosa e ametista, la morte, che abbiamo intravisto anche prima, vedi, qui c'è una situazione che finisce, questo secchio che si rovescia, vedi come parlano, poi, per l'amor di Dio, magari si tratta di una situazione diversa, io non voglio dire, quattro di coppe, e sei di coppe, ah, anche, il giudizio, mamma, ok, guardatevi, anche, l'altro, mazzetto, accidenti, guardatevi, entrambi, i mazzetti, che potrete trovare, un qualcosina, anche di là, non ve lo dico più, comunque, detto questo, detto questo, ma guarda, un pochino, se vi ho la verità, ci sono delle carte, che mi piacciono un po' di più, delle carte, mi garbano un po' meno, nel senso, qui c'è qualcuno, che torna, che si rifà vivo, una situazione, che cambia, bisogna vedere se a te ti fa piacere o no, perché qui mi parlano di una grande passione, della devozione, e tutto quanto, ma mi parlano anche di difesa, di persona un po' violenta, o comunque di qualcosa, violenta, calma, in tutti i sensi, anche uno violento, troppo invavente, uno che ti dà fastidio, qui c'è la protezione, quindi potrebbe pure essere, che qualcuno insiste, diciamo così, con la sua presenza, anche se a noi, tanto piacere non ci fa, capito, come qui mi fanno vedere, una persona, che tende, a prevaricarci, capito, a volerci schiacciare, con la sua volontà, ecco, queste sono le parole, più corrette, che mi vengono, vedete voi, di cosa, e di chi vi stanno parlando, queste carte, a seconda di che persona, poi vediamo ora, in fondo, con i segni zodiacali, forse capiamo anche, di chi ci parlano, qui mi fanno vedere, un personaggio maschile, poi magari, se questo tu sei te, tu lo subisci anche te, per l'amor di Dio, io non voglio dire, ma qui c'è un personaggio maschile, che potrebbe essere un ariete, ma anche un leone, un sagittario, aggiungo io, ma più ariete e leona, di ribero, comunque, un segno di fuoco, quindi, detto questo, ok, vedi, qui c'è una situazione, dove, è ora di uscire, da una situazione, siamo protetti, da cose negative, quindi, sicuramente, ne usciamo, ne usciamo vincenti, ne usciamo per bene, da questa situazione, però, qui c'è, un qualcosa, una situazione, che termina, e finisce, una situazione, da cui si cerca, o si è cercato, di uscire, in un certo qual modo, che però, si ripresenta, quindi, qui può essere, un qualcuno, che ci ha stufato, non se ne può più, però, questo personaggio, ancora, ancora, non molla, qui c'è una situazione, che si ripresenta, ora, è anche vero, che io, in questa situazione, ho la devozione, e la passione, quindi, casi sono due, qui può essere, anche, questo personaggio, come dire, ancora ci desidera, non ci vuole mollare, va bene, ma può essere anche, una persona, che comunque, a te ti interessa, perché qui c'è, la grande passione, ma anche la devozione, però c'è anche, la difesa, sotto alla devozione, quindi, qui c'è anche un qualcosa, che ce lo fa tenere, un po', così, come dire, sì sì, ma stai, stai lì, è una persona, troppo prepotente, sinceramente, io voglio di violenta, però, qui la prepotenza, c'è, è un personaggio, che magari, ci vuole piegare, alla sua volontà, e non usa più voglia, di essere piegata, la sua volontà, ecco, te la dico, Chiara, vedi, qui c'è il sole, l'asso di bastoni, gli amanti, ah, rovescio, esattamente, gli amanti, il sé, no, qui c'è qualcosa, che non va, no, il due di spade, capovolto, capito, qui ci parlano, di una situazione, che magari, è stata bella, o per certi versi, ancora, ci piacerebbe, però, c'è un personaggio, che qui, ci vuole mettere sotto, magari, anche mettere sotto, semplicemente, nel senso, che, la vola per vinta, sto personaggio, qua, insomma, non so come è meglio dire, vediamo ancora, cosa ci dicono, ste carte, qui c'è una situazione, che continuerà, anche se, vedi, usa la tua saggizza, quindi, magari, da una parte, questo personaggio, che può essere, un personaggio, d'amore, passione, ma si può parlare, anche di lavoro, attenzione, va bene, è una situazione, che comunque, coinvolge, molto, anche i nostri, le nostre emozioni, quindi, ci prende, nel senso, che ci tocca, molto, questa situazione, ok, però, insomma, qui c'è anche, questo, voglio di disgusto, però, questo, non, come dire, no, no, anche no, però, insomma, un personaggio, un bolla, e secondo me, potremmo mi farà sapere, a me, poi, guardati l'oroscopo, e vedi, cosa ti dico lì, nell'oroscopo, se, 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 faccio accenno, a questa situazione, non so, del segno 6, non voglio fare, questo video, troppo lungo, visto che, ok, quindi, guarda, il tuo primo pensiero, il tuo primo pensiero, vedi, qui ti parlano di pensiero, qui di nuovo, di saggezza, quindi, guarda dentro di te, ok, se è il caso, no, di quello che è il caso di fare, qui c'è questo personaggio, prepotente, come minimo, come minimo, prepotente, testardo, va bene, che insiste, in una situazione, a una situazione, che riguarda questo tizio, per l'amor di Dio, che a noi, tanto, troppo piacere, non ci fa, vediamo gli oracoli dell'amore, che non parlano solo d'amore, vanno un po' tradotti, dicevo, non voglio fare un video troppo lungo, perché siamo già al 10 di settembre, ho già fatto l'oroscopo, per i segni zodiacali, per il mese, quindi, non voglio star lì troppo, però, me l'avete chiesto, nascondere i problemi, quindi, qui ci potrebbe essere anche un personaggio, che torna, che si rifà vivo, ok, che riapre una situazione, senza però necessariamente, voler cambiare nulla, situazione complicata, sai quando uno, no, però c'è mancanza di fiducia, vedi la difesa, come dire, sì, ok, però stammi lontano, non mi fido di te, vedi, qui c'è da difendersi, ok, o da difendere qualcuno, a cui noi temiamo, eh, a cui noi temiamo molto, vedi, ti voglio, guarda, ti voglio, anche se c'è mancanza di fiducia, dai alle cose, il tempo di svolgersi, quindi, qui c'è un po', ti voglio, ma non ti voglio, ma ancora ti voglio, ma non mi fido, insomma, un bel casino, sì, è una frappola, vuole ad escarti, quindi, attenzione, perché qui, non so se ve l'ho detto, c'è anche della falsità, eh, in tutta sta stesa, qui fanno vedere, insomma, qui qualcuno gioca su due tavoli, non è troppo sincero, vediamo i segni zodiacali coinvolti, magari capiamo, io vedo i segni di fuoco, a ditti vero, quarzo rosa, e ametista, vediamo, allora, qui c'è il gemelli, con quali segni, con quali segni zodiacali, avrà a che fare, il quarzo rosa, la vergine, l'acquario, l'ariete, lo scorpione, con quali segni, segni, il toro, la bilancia, la vergine viene confermata, il cancro, questo cos'era, i pesci, l'abbiamo visti, no, aggiungiamo i pesci, quello niente, con quali se, i pesci, eccoli, confermati, io mi fermerei, sai, l'ariete, guarda, l'ariete è lì, quindi direi, viene confermato l'ariete, viene confermato il sagittario, erano i segni che ti ho detto, che ti ho detto io, mi fermo qua, quindi, tutte e tre i segni di fuoco, ariete, leone, sagittario, i pesci, l'acquario, il cancro, la vergine, il cancro, la vergine, i gemelli, lo scorpione, il toro e la bilancia, insomma, qui ce n'è i disegni, quindi, stiamo attenti, non succede nulla, per l'amor di Dio, anche perché qui vedi, però attenzione, perché sta ragnatela, ti difende e ti proteggi, però può essere anche una trappola, quale trappola è meglio di una ragnatela, quindi, cerchiamo di non cadere in trappola, non so, per lavoro, per un contratto, dipende la tua vita, di chi ti stanno parlando, capito? Tutte queste carte qui, qui c'è un cambiamento, c'è qualcuno che, insomma, magari potrebbe anche provare di mettitelo nel bocciolo, però, insomma, qui tutti saprà difendere bene, sinceramente, fanno vedere queste carte, quindi, una situazione che si propone, che si ripropone, in un certo qual modo, si può trattare anche di un'eredità contestata, da quello che vedo, quindi, insomma, pariamoci in fondo a schiena, e stiamo, stiamo allerta, guardati i segni zodiacali, settembre, e vedi anche lì, di che cosa ti parlano, va bene ragazzi, la chiudo qui, non la voglio fare troppo, troppo lunga, fatemi sapere cosa ne pensate, giù nei commenti, io vi aspetto qui, su Penello, per le sue carte, al mio prossimo video, ciao! Ciao!